E' morto questa mattina in ospedale dopo una notte di agonia Antonio Parente, 76enne, originario di Trepuzzi, investito da un'auto la notte scorsa a Porto Cesario. L'anziano, un generale in pensione, era in vacanza con la moglie nella marina ionica. Ieri intorno alla mezzanotte era uscito di casa per gettare la spazzatura quando una 500 condotta da un ventenne di Guagnano lo ha travolto in pieno. L'incidente si è verificato sulla via dei Bacini, non lontano dalla villetta estiva dell'ex ufficiale. I soccorsi sono stati immediati, un'ambulanza lo ha trasportato in un primo momento all'ospedale di Copertino, ma qui i medici, a causa delle ferite riportate, ne hanno disposto il trasferimento al Vito Fazzi di Lecce. Lo sforzo dei medici però non è servito a salvargli la vita, il suo cuore ha cessato di battere alle prime luci dell'alba. Il leso ma sotto shock il giovane conducente dell'utilitaria che, secondo una prima ricostruzione affidata ai carabinieri del Norm di Campi, non avrebbe visto il pedone per via della strada troppo buia. La notizia della scomparsa di Antonio Parente, o come lo chiamavano tutti a Trepuzzi, il Lillino, ha suscitato stupore e dolore. Conosciuto e stimato in paese non solo per la sua gentilezza e nobiltà d'animo, come lo ricorda il sindaco Cosimo Valsano, ma anche per la sua passione per la storia delle divise e del tricolore, che spesso l'ha portato in giro per il Salento ad organizzare appositi convegni. Il generale Parente per la nostra città ha rappresentato sempre un elemento di riferimento con il suo stile, con la sua educazione, oserei dire, e soprattutto questa sua grande umanità. Per cui non solo è stato un valoroso uomo in divisa, ma sicuramente è stato un galantuomo.